benvenuti a tutti a tutti a questo nuovo video nel quale come vedete dal titolo vi voglio presentare un servizio di accesso ad internet attraverso una vpn completamente gratuita e con traffico crittografato allora se vi chiedete che cosa sia una vpn non ne avete mai sentito parlare vi segnalo che tempo fa avevo già pubblicato un video sul tema dal titolo proprio guarda caso cosa è una vpn tema suggerito eccolo qui sullo sfondo è il mio canale youtube questo qualche mese fa il 9 settembre 2013 avevo pubblicato proprio questo video che parlava di cosa è una vpn come funziona per sommi capi insomma ecco tecnicamente cosa significa vpn quindi riferitevi a quel video per avere dei dettagli su cosa sia una vpn non mi soffermerò qua perché lo scopo di questo video un altro è proprio presentarvi concretamente un servizio presente in rete che ci permette di usare uno di questi canali vpn le vpn solitamente fanno parte della dotazione delle aziende sono le aziende che hanno tutta l'infrastruttura necessaria e sufficiente a mettere in piedi un servizio di vpn per i propri collaboratori o per accessi da esternamente alla rete aziendale la singola persona come noi come me come voi privatamente quindi per evitare tutte le complicazioni tecniche di mettere in piedi una vpn quindi per gli utenti comuni è come ci chiamiamo noi può far capo quindi ai numerosi perché ce ne sono parecchi servizi che si trovano in rete che fanno proprio questo di lavoro cioè mettono a disposizione una infrastruttura vpn pronta al uso ecco quindi per le persone private dicono non tecniche che che non si divertono in queste cose ma che vogliono solo usufruire del servizio ci sono appunto questi servizi in rete e generalmente questi servizi comunque richiedono di pagare un abbonamento mensile o annuale per potersi iscrivere e quindi usufruire del servizio chiaramente perché insomma l'infrastruttura vpn è un qualcosa che deve essere mantenuta anche quindi questi servizi sono generalmente a pagamento magari hanno dei periodi di prova gratuite o no dei periodi di prova gratuita se vi piace il servizio potete comunque appunto iscriversi iniziando a pagare un abbonamento mensile o annuale o quello che è insomma e a questo punto ci si può chiedere se vale la pena noi come privato utente della rete possiamo chiederci se vale la pena pagare poco tanto che sia questo abbonamento se vale la pena pagarlo o meno ecco io direi in linea di massima che se l'uso di una vpn è una nostra necessità costante non possiamo proprio farne a meno vale senz'altro la pena pagare per usarla ecco e aggiungo di più se avete iniziato a seguire questo video e non sapete di cosa sto parlando con vpn allora probabilmente non avete mai neanche sentito la necessità finora di usarla chi già è sensibile a queste cose o per la natura della sua professione o della sua situazione geografica o meno ha già avuto che fare o dovuto avere a che fare con le vpn ecco che può essere interessato un video come questo e sicuramente sa già cosa vuol dire usufruire di un servizio vpn e quindi male l'ha sempre pagato e lo sta pagando tuttora volentieri per poterne usufruire ma d'altra parte se non abbiamo mai sentito parlare di vpn ma siamo curiosi di vedere cosa sia o se ne facciamo un uso veramente molto sporadico che ne so poche volte all'anno o appunto solo per curiosità vogliamo usare una volta nella nostra vita una rete vpn per provare l'effetto che fa di certo non vale la pena spendere soldi quindi ben venga se ci fosse la possibilità di usare un servizio gratuito che ci permette di capire cosa vuol dire usare una vpn vedere gli effetti dell'uso di questa vpn senza dover sborsare denaro per nulla ecco che quindi ho deciso di fare questo video appunto per presentarvi questo servizio gratuito di vpn probabilmente in tutta la rete ce ne saranno altri gratuiti non ho indagato più di tanto so che la maggior parte sono a pagamento con più o meno tariffe alte ecco a dipendenza di cosa offrono i vari servizi a contorno magari della vpn però ecco trovato uno provato funziona tecnicamente funziona ve lo presento poi sta sempre a voi la scelta se approfondire o meno se adottare o meno questo servizio eccetera eccetera ecco come sempre quindi vi presento appunto in questo video un servizio completamente gratuito di vpn con traffico crittografato e basato importante anche questo aspetto completamente su software open source quindi è tutto aperto a parte il traffico che crittografato il software con cui è composta questa vpn è tutto open source allora un'informazione per iniziare una vpn con traffico crittografato è anche detta o chiamata personal vpn o encrypted proxy quindi se trovate queste due definizioni in giro nel vostro navigare in rete sappiate che sono non so se chiamarli sinonimi ma comunque significano poi la stessa cosa quindi è una vpn con traffico crittografato si chiama anche così in due con due definizioni in inglese ecco ma questo era solo un'informazione per sapere è per competenza di informazione iniziamo andare in dettaglio di questo servizio insomma capire da dove viene chi come quando e cosa ecco allora prima domanda chi lo mette a disposizione lo sviluppa e chi lo gestisce punto di domanda allora è un gruppo di progetto insieme un insieme è un gruppo di sviluppatori del progetto chiamato rise up che è questo qua praticamente la pagina principale del sito rise up è questa e qui è la parte pagina dove c'è scritto chi siamo ecco insomma qui spiegano chi sono questi sviluppatori di questo progetto il progetto rise up adesso ovviamente non sto a descrivere ciò che trovate già sul sito è che in parte tradotto in italiano in parte no vi avviso già c'ho questa pagina la vedete in italiano ma non è detto che tutto quello che cliccate su questo sito sia già tradotto in italiano alcune parti sono ancora in originale inglese ma come sempre col traduttore di google non ci sono problemi allora dicevo riassumendo in due parole un po lo scopo il succo del progetto rise up è questo quindi rise up è stato creato per garantire a tutti utenti tecnici quindi esperti e comuni quindi noi quello che chiamo sempre io utenti comuni siamo la nostra categoria insomma è degli di coloro che usufruiscono dei servizi più di quelli che li sviluppano e li creano ecco quindi un po per tutti quindi questo progetto è rivolto a tutti per garantire cosa per garantire l'accesso alle tecnologie che possono proteggere la nostra navigazione in rete e questo è lo scopo principale di rise up e perché è nato rise up perché le tecnologie di crittografia e protezione dei protocolli di comunicazione ovvero della navigazione in rete sono molto tecnici queste tecnologie richiedono delle conoscenze tecniche non indifferenti per essere usati così come sono e quindi è nato questo progetto rise up per creare come dire uno strato di semplificazione che poi sotto usa comunque queste tecnologie ma che nasconde la complessità a noi utenti comuni ecco che non siamo costretti a entrare nei meandri tecnologici per poter usufruire di una navigazione in rete protetta quindi senza un approccio semplice per tutti è questa dichiarazione del progetto rise up la stragrande maggioranza degli utenti della rete ne sarebbe esclusa da questa possibilità di navigare in modo protetto perché solo ai tecnici esperti sarebbe aperta questa strada perché gli altri non saprebbero da che parte iniziare ed ecco che grazie al risultato del lavoro di questo progetto rise up noi possiamo usufruire tranquillamente come vedremo fra un attimo di questo servizio vpn con tutta appunto la complessità nascosta dietro un semplice programma che a noi sembra semplice ma dietro ci sta un bel lavoro è una piccola parentesi qui prima di andare avanti il progetto rise up come avrete modo di scoprire da soli se andate a leggere il loro sito e magari anche intuendo dal simbolo qua delle pagine del sito questa stella rossa un po nera un po rossa scoprirete da soli dico che i partecipanti a questo progetto è chi contribuisce che sono poi questi qui sono con i loro sinonimi ma sono i personaggi che stanno dietro questo progetto sono piuttosto profilati ideologicamente politicamente questo ve lo dico per perché sul mio canale comunque un canale tecnico a me interessa l'aspetto tecnico tecnologico vi presento dei comandi vi presento dei sistemi operativi vi presento come usare un programma vi presento questo quello e concetti tecnici ma ho sempre escluso e sempre escluderò altri aspetti che non siano quelli strettamente tecnologico non è lo scopo di questo canale parlare di cose diverse dalla tecnologia da ubuntu da linux e da tutte queste cose ecco ve lo dico perché appunto se iniziate a leggere chi sono come sono organizzati questi del progetto rise up vi accorgerete appunto che sono ben profilati politicamente e ideologicamente e ve lo dico appunto perché non vorrei che pensaste che voglio fare una pubblicità tra virgolette di quel tipo e non semplicemente una presentazione tecnica di un prodotto che offrono questi sviluppatori di questo progetto ecco quindi non c'è niente di nessun legame ideologico né di preferenze né di preferenze per una tendenza o per l'altra niente a me interessa solo l'aspetto tecnologico quindi l'unica cosa che mi interessa in questo video è presentarvi il programma che vi permette di attivare un servizio vpn che poi venga da un progetto rise up profilato o meno dal punto di vista politico ideologico questo è un altro discorso che esola completamente dal mio canale e dagli intenti del mio canale quindi questa parentesi era dovuta chiudiamola e andiamo avanti tranquillamente a tornare al nostro tema preferito ovvero il software e quindi dove trovo i dettagli del software ho detto che è open source dove li posso trovare questi dettagli e tutto è open source quindi tutto è a disposizione in onore della massima trasparenza e tutte le informazioni si trovano nel sito qua quindi un sito come dire gemello che accompagna quello principale che è questo di rise up c'è anche questo che si concentra specificatamente sui sui servizi che danno che offrono poi risultati risultati del lavoro di questo gruppo di progetto e anche su un altro sito che è quello specifico del software che poi installeremo sui nostri pc per poter usare questo servizio ecco quindi questi due siti ci sono tutti i dettagli e gli scaricamenti possibili dei software e tutto quanto ecco il programma appunto l'avrete già visto qui sottofondo nello sfondo del video il programma che possiamo installare sui nostri pc se decidiamo di provarlo si chiama appunto bitmask bitmask qui se clicco download bitmask mi ritrovo qua nel sito di bitmask ovvero qua e qui si può scaricare il programma oppure appunto vedremo fra un attimo per ubuntu come si fa a installarlo su per esempio ubuntu ecco qui vedete che sul sito principale diciamo del servizio di vpn viene a parte il pulsante per andare a scaricarsi il programma ci sono anche altri pulsanti che parlo di una login e di un sign up ovvero di creare un account per il rise up per l'infrastruttura rise up per poter farla login se avete già l'account oppure di crearvi un account tuttavia ho constatato che non è nemmeno strettamente necessario crearsi un account per usufruire del servizio vpn poi leggendo qua e là mi sembra di capire che in ogni caso se volete se riscontrate dei problemi nell'uso del software e volete aprire un ticket di supporto ovvero comunicare dei problemi al progetto rise up oppure usare futuri servizi come l'email e altri ancora che verranno che sono in corso di sviluppo quell'account vi servirà comunque anche se adesso in questo momento la vpn funziona comunque anche senza iscriversi se vorrete usare in futuro altri servizi di questo gruppo di progetto avrete bisogno di questo account quindi prima o dopo anche se non volete farlo adesso appunto dovrete farlo tuttavia per il momento per quanto riguarda questo video e il tema di questo video le vpn non è indispensabile iscriversi e comunque vi dico come c'è scritto qui e vi rendo attenti che per una sicurezza maggiore piuttosto che iscriversi da qui dal web vi consigliano già loro di iscrivervi di creare l'account direttamente nel programma una volta che l'avete installato direttamente in bitmask perché anche lì c'è una funzionalità per crearvi un account quindi vi dicono va bene puoi creare puoi iscriverti da qui dalla pagina web ma se vuoi un ulteriore grado di sicurezza essere veramente sicuro di non essere che ne so intercettato che non ti vengano rubati i dati di iscrizione quindi la tua user la tua password e voilà di farlo direttamente dal client dal programma installato quando l'avrà installato quindi tutto qui ecco per il momento però la parte di iscrizione non la vediamo perché tanto non ci serve per lo scopo di questo video per usare la vpn quindi in ubuntu dicevo installare bitmask si installa comodamente aggiungendo un repository quindi non si scarica un setup come fossimo sotto windows ma c'è una serie di comandi che fatti da terminale in pochi istanti ci permettono di aver installato il nostro programma i comandi che riporto qui nella scaletta si riferiscono alla versione ubuntu 1404 che è quella che sto usando adesso quella corrente quindi sul sito qua qua praticamente nei nei vari dettagli di installazione qua di bitmask ci sono le istruzioni specifiche per altre versioni di ubuntu per altre distribuzioni linux quindi vedete qui debian e altre distribuzioni linux c'è scritto come fare insomma per ognuna io visto che sto usando ubuntu proprio questa versione riporto qui nella scaletta questi comandi voi potete se avete altre situazioni se usate altri sistemi operativi potete riferirvi al sito di bitmask con tutti i dettagli quindi va bene sono non li faccio naturalmente i comandi perché l'ho già installato però basta fare copia e incolla di questi comandi nel terminale seguire le istruzioni che escono nel terminale il primo il primo comando qui serve semplicemente ad aprire una sessione temporanea di root di amministratore in modo da non dover usare sempre sudo nei comandi che seguono ecco quindi si fa sudo una volta e poi si aggiunge repository con questo comando che lo vedete qui repository bitmask per trasti che la versione di ubuntu corrente poi si va a prendere dalla rete la la chiave di come dire la chiave per il repository per far riconoscere il repository come uno ufficiale si deve aggiungere nel vostro sistema linux una chiave nel vostro sistema debian ubuntu si aggiunge sempre una chiave che accompagna i repository per per garantirne l'autenticità poi si aggiorna il sistema dei repository per far riconoscere il nuovo repository aggiunto e infine si aggiorna si installa bitmask e un altro pacchetto che è necessario a bitmask quindi questi due pacchetti vengono installati uno dopo l'altro non è molto diversa dalla strada solita che noi facciamo frequentemente aggiungendo un archivio ppa tanto che gli archivi ppa sono specifici per ubuntu qui stiamo parlando di un archivio debian deb però a parte primo il secondo comando diciamo che poi si assomiglia molto la strada per installare da terminale un nuovo repository un nuovo software ecco poi appunto una volta installati questi due pacchetti ci troviamo il programma bitmask con questa mascherina come icona e una volta che che è avviato il programma appunto l'accesso vpn si attiva automaticamente ovvero una volta avviato bitmask e qui vi posso far vedere che sono già posizionato nella dash ecco sarebbe questo vedete qui l'icona con la mascherina di carnevale bitmask e quello lì non l'ovvio ancora per il momento perché tra un attimino lo vediamo perché appena l'ovvio si attiverebbe subito la vpn e quindi si può verificare che sta effettivamente funzionando in un paio di modi per esempio uno è verificare l'indirizzo ip che abbiamo in rete in questo momento allora l'indirizzo ip si può testare con uno di questi siti tipo vabbè basta cercare tipo whats whats my ip che è un sito famoso è per queste cose però mai ip cercando mai ip in rete c'è whats my ip che l'ho già usato what is my ip address vediamo un po' si risponde sembra che non risponde questo sito whats my ip eccolo qua whats my ip un sito qualsiasi ce ne sono a decine in rete di questi siti che vi danno l'indirizzo che avete che il vostro pc ha in questo momento in internet quindi questo 188 qui è quello che temporaneamente ho il mio pc ha in questo momento in rete vi rammento che noi comuni mortali utenti comuni non abbiamo un indirizzo ip fisso come spesso hanno le aziende quindi non è sempre quello magari fra qualche ora cambia o non so ecco comunque per il momento è questo e i dettagli mi dicono e mi confermano che sono sotto sotto bluvin ch vabbè sto usando chromium ubuntu sono in ambito svizzero ovviamente essendo localizzato io in svizzera vedete che qui mi parla di un dominio svizzero bluvin.ch fa parte del di swisscom che è il mio internet provider e quindi ecco che mi dice che sto navigando dalla svizzera sono un utente connesso alla rete internet dalla svizzera ovviamente e giustamente more info about you vediamo un po in questo sito non l'ho mai usato fatemi vedere cosa dice la località vabbè ma lasciamo perdere va l'importante è che cosa ho visualizzato uno di questi siti che vi mostra l'indirizzo ip effettivo con il vostro dominio della nazione praticamente di dove vi trovate perché attivando la vpn dovrebbe cambiare perché 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 la vpn è allo scopo di farvi navigare come se foste piazzati da un'altra parte del mondo praticamente ecco e un altro modo per verificare che la vpn funziona è aprire come dico qui il sito principale di google allora il sito principale di google qui cercando google ecco cercando il sito principale quindi il punto com è quello americano il principale lui cosa fa? accorgendosi del paese di provenienza della chiamata cosa dice? qui sposto un attimo la scaletta lui dice che google ch quindi svizzera nel mio caso vedete che qua sopra si è trasformato in google.ch quindi google ch è disponibile nelle varie lingue vabbè ufficiali del nostro paese cioè italiano è quella dove è uscito adesso e poi ci sono le altre lingue che sono conosciute nel nostro paese ecco detto questo abbiamo preparato le due prove i due indizi che poi attivando la vpn devono cambiare adesso appunto finalmente è arrivato il momento di aprire questo programma bitmask apriamo il programma lasciamo che parta allora c'è il mio pc che sta lavorando non so esattamente cosa stia facendo ecco che sta arrivando bitmask allora in ubuntu mette sul pannello in alto a destra mette una sua icona la vedete qui aspettiamo che si connetta e io prima di prima di iniziare a registrare questo video si connetteva tranquillamente senza nessun problema adesso vedo che dobbiamo aspettare non so se c'è qualche problema è comunque ancora in beta è tutta questa infrastruttura è da notare che non è per niente definitiva è una versione beta quindi può avere dei problemi l'infrastruttura è quindi attenzione e vedete che c'è un problema diciamo che se fosse andato tutto liscio subito prima di mettere in pausa il video e vedere di riuscire a farlo funzionare qui dopo un momento di di tentativi di connessione dovrebbe diventare verde un vistino verde quando è connesso alla vpn in questo momento non lo sta facendo quindi per il momento metto in pausa il video e poi ci rivediamo quando funziona un attimino scusate ok è andata ho chiuso e riavviato il programma questa volta si è connesso subito e si vede che ha trovato un bel posticino libero per far entrare anche me allora dicevo all'inizio del video che potete crearvi un user e una password e invitavano a crearla dall'interno del programma qua direttamente e in effetti qui vedete che c'è nel menu un'opzione create new account quindi schiacciate qui se non avete l'account vi create il vostro account user password se siete a posto nelle preferenze non c'è granché al momento se non che è attivato di criptografare il traffico internet cambiare la password dovete prima fare la login quindi avere un account poter cambiare la password se non ha senso farlo e nei servizi vpn vedete che è impostato automatico quindi il gateway ovvero la macchina che vi funge da da vpn è scelto automaticamente io sono in europa e io sono in europa e vedete che la bandiera è quella olandese e mi ha scelto la macchina che si trova ad amsterdam allo stato corrente visto che come ho detto questo progetto è in beta è ed è in consolidamento in crescita lo stato corrente ci sono quattro posti quattro macchine che tengono in piedi questo servizio vpn si trovano in varie parti del mondo negli stati uniti in canada hong kong per la cina in asia diciamo così e amsterdam per l'europa per il momento c'è solo una macchina per ogni diciamo così zona di queste parti del mondo ecco diverso tempo fa avevo già provato questo servizio ma vari mesi fa e e c'era solo se non erro c'erano solo due macchine una ad amsterdam e l'altra a seattle dove la sede del progetto rise up tra l'altro sono a seattle e c'erano solo due vedo che se ne sono aggiunte altre due quindi il progetto sta seppur lentamente crescendo quindi queste sono tutte le le preferenze nell'help vabbè il log se mai ci sono dei messaggi di errore o meno del del programma bitmask che sta funzionando user e puzzle appunto se le avete qui il traffico vi mostra se sta andando avanti e indietro del traffico attraverso appunto il server olandese qui potete spegnere la criptografia del traffico così come sull'indicatore qui in cima in ubuntu viene piazzato un'icona qui sul pannello potete anche chiudere la finestra principale così resta attivo l'indicatore qua in cima voi riattivate la finestra principale oppure encrypted internet al momento è on vedete il verdino al momento è on e voi potete anche fare turn off cioè spegnerla o premendo questo pulsante o scegliendo da qui di spegnere la criptografia se lo fate vedete che esce una croce perché vi deve rendere attenti che in questo momento il traffico è instradato in chiaro ovvero quello che mandate quello che dice che mandate scusate non che ricevete non lo sapete come lo ricevete ma che lo che mandate sicuramente non è criptografato quindi meglio lasciare le impostazioni di default ovviamente ecco adesso vedete che si riconnette in modo criptografato perché se voi lo spegnete è come se non esistesse la vpn praticamente scade al suo scopo di avere la vpn criptografata se vuoi premete questo pulsante quindi assolutamente inutile lasciate pure così col vistino verde se avete il vistino verde avete la navigazione protetta e avete la navigazione protetta e come se navigaste dall'Olanda praticamente in questo caso quindi chiudiamo un attimino la finestra mettiamo icona vabbè tanto è attivo qua vediamo adesso coi due indizi qui coi due siti qui se cambia qualcosa perché in questo momento tolgo un attimo dal video la mia scaletta che non serve più quindi siamo partiti che ero in Svizzera normalmente adesso rinfreschiamo questa pagina e vedete che l'indirizzo ip è cambiato completamente non è più quello di prima l'indirizzo os name è questo e vediamo se non vedo indizi olandesi su questa pagina vediamo se me lo dice qua what's my p chiede no ops ecco vediamo un po' si vede da qualche parte allora l'indirizzo ip è cambiato e qui si vede che sicuramente non è un pezzo di cartina Svizzera ma vedete che c'è l'Amsterdam vedete che il questo sito mi dice guarda che più o meno ti trovi in questi paraggi sembra che io sia diventato un utente olandese della rete perché perché sto navigando attraverso quella macchina che si trova in Olanda appunto vedete e secondo indizio la pagina principale di Google ops però devo ricercarla per fargli fare il giochetto di prima la pagina principale di Google coraggio ecco la pagina principale ecco vedete che addirittura attivando la ricerca lui mi dice vuoi cercare con google.nl che è quello olandese anziché google ch perché lui dice guarda che secondo me sei in Olanda ecco che se io cerco il sito principale di Google quindi lasciando perdere quel vedete cosa dice google.nl disponibile in olandese è esattamente come se io mi trovassi ad Amsterdam a navigare e questo è l'indizio che il nostro programma Bitmask sta facendo il suo lavoro e dove è finito eccolo qua il nostro programma Bitmask sta facendo il suo lavoro in effetti c'è il suo vistino stiamo navigando in modo criptografato qui c'è il traffico che funziona e è come se navigassimo dall'Olanda appunto questa è una VPN quindi abbiamo creato un canale sicuro per andare in rete attraverso una macchina che si trova in questo caso in Olanda e appunto criptografato e sicuro è questa la VPN in sé e rendetevi conto come è stato semplificato l'uso e l'accesso di una VPN tramite questo programma da questo gruppo di progetto RiseUp tutto qua eh dietro a questo programma ci sta tutta la complicazione tecnica per mettere in piedi queste cose il canale sicuro fra il mio PC e il resto della rete eccetera 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 potete andare sul sito del progetto dove vi spiegano come funziona la VPN ecco qui sotto VPN vi spiegano come funziona come non funziona i limiti non limiti di una VPN la sicurezza di una VPN vi spiegano tutto cosa c'è come non c'è come funziona vi spiegano proprio anche quei disegni eh il vostro PC vedete che come funziona il traffico dove e perché c'è un server in Olanda e tutto cioè voi andate sul sito e vi spiegano cosa sta succedendo cosa state usando e cosa sta succedendo il vostro traffico in rete comunque vedete che è semplicissimo eh ho dovuto fare praticamente niente installare un programma e avviarlo ho fatto tutto lui quindi si è piazzato qua e siamo a posto ecco in questo momento sto navigando in Olanda voilà quando sono stanco di usare questa cosa io posso tranquillamente uscire vedete che qui mi esce una notifica che mi dice aspetta che Bitmask sta uscendo sta cancellando, sta chiudendo tutti i suoi protocolli e non protocolli è uscito, è sparito l'indicatore qui Bitmask è uscito faccio un una rilettura della pagina vedete che sono tornato in Svizzera praticamente ecco adesso qua c'era una pagina qual'era questo? il sito? sì, ecco vedete sono tornato col mio IP qui penso che sia quello di prima o si assomiglia tanto e sotto blu in CH che è poi Swisscom sono tornato a navigare come utente svizzero e anche Google adesso se io ricerco di nuovo Google e faccio uscire il sito principale di Google non mi si presenta più, non mi chiede più quello olandese perché è coerente con l'informazione geografica vedete Google CH è disponibile nelle mie lingue sono tornato in Svizzera semplicissimo eh? ecco quindi voilà volevo mostrarvi con questo video quanto sia semplice usare un servizio VPN gestito in questo modo direi che lo scopo del progetto Rise Up a questo punto è raggiunto perché è veramente banale attivare un accesso VPN con il loro programma quindi complimenti a loro per il lavoro tecnico che hanno fatto finora e se avete interesse come sempre provate anche voi eh? le indicazioni ve le ho date la scaletta ve la lascio nella descrizione del video con questo concludo e vi saluto e vi attendo alla prossima ciao ciao ciao